ciao sono paolo vacci e vi presento questo granduca 285 p un camper usato che potete cliccando sulla vostra destra in alto potete aprire la scheda di tecnica nel nostro sito dove vedrete tutti gli accessori optional chilometri dimensioni e tant'altro poi iscrivetevi al canale youtube e cliccate la campanellina sarete sempre aggiornati sui nostri video andiamo a vedere la parte esterna di questo campo eccola qua questo è il garage già qui ci sono materassi per fare il terzo posto il i due singoli perché sono due singoli posteriori è un volume variabile quindi si abbassa o si alza in relazione a quello che metterete qui all'interno del garage qui sotto le dimensioni di questo spazio andiamo al suo interno porta con porte ammondizie e finestra quella zona giorno 1 2 3 4 5 persone il tavolo che si muove e si sposta in trasversalmente e avanti e indietro quindi luminoso una bella finestra e uno bloc sopra i vari contenitori sulla destra e sinistra poi qua pensile 1 2 e 3 il blocco cucina i tre fuochi e poi qua un contenitore poi cassetti la cassettiere 1 2 e 3 oltre a questo piccolo piano d'appoggio e poi questo portello sotto il lavello da quest'altra parte il contenitore sopra il frigorifero un frigorifero grande congelatore frigorifero sottostante la parte posteriore parte posteriore c'ha la porta e divide la zona giorno con la zona notte una bella fanno doccia immaginatevi in questo modo poi la parte posteriore dei letti qui un contenitore lo sportello per poter abbassare e alzare i due singoli qua l'armadio posteriore qua gli sportellini sotto sia a sinistra che a destra per salire ecco qua e poi giù qua altri contenitori wc l'area bagno qua il water con la finestra e il suo blu e qua un bel lavandino con cassettiera e un altro sportello sotto oltre ad avere quest'altro contenitore quindi un camper un comodo e due persone con la zona giorno oppure potete abbassare questo tavolo e diventa un terzo posto e un altro posto nella parte posteriore quindi un omologato 4 però un comodo 2 trovarci avete la possibilità di confrontare il prodotto con altri nostri usati avere la nostra consulenza per potervi offrire il camper più adatto alle vostre vacanze come sempre agli ottimi prezzi e servizi caravan ciao